Il turismo in Italia sconta l'impennata dei prezzi. Secondo Demoscopica, le previsioni per il 2024 segnano un andamento al ribasso dei flussi nel bel paese. 130 milioni di arrivi e 445 milioni di presenze, con un calo pari al 2,5% e allo 0,4% rispetto ai 12 mesi precedenti. A pesare maggiormente, secondo le stime dell'Istituto di Ricerca, sarebbe la quota degli italiani rispetto al mercato estero. In particolare, a optare per una destinazione del bel paese sarebbero il 4% di italiani in meno, generando poco meno di 208 milioni di pernottamenti. Per il presidente di Demoscopica, Raffaele Rio, serve una programmazione più consapevole per adeguare l'offerta del bel paese ai cambiamenti in atto dei consumi turistici e per agilizzare la crescita dei prezzi. Il caro vacanze potrebbe pesare per ben 5,9 miliardi di euro nei 12 mesi dell'anno in corso. Secondo assoutenti, strutture ricettive, stabilimenti balneari, ristoratori e operatori del settore hanno applicato sensibili rialzi dei prezzi, speculando sulla ripresa del turismo straniero in Italia. Solo ad agosto i prezzi dei pacchetti vacanza sono saliti del 37% su base annua. Sfiorano i 123 miliardi gli oneri complessivi a carico dello Stato dall'introduzione del super eco bonus 110% al 31 agosto scorso, è quanto rileva la CGA, ricordando che ad oggi gli immobili che da luglio 2020 hanno beneficiato di questo provvedimento sono stati poco meno di 500 mila. Considerando che in Italia gli edifici residenziali sono circa 12,2 milioni, l'ufficio studi della CGA stima che il super bonus abbia interessato solo il 4% del totale degli immobili ad uso abitativo presenti nel paese. A livello regionale è il Veneto ad aver registrato il ricorso più frequente, con un'incidenza del 5,6% sul numero degli edifici residenziali. Seguono l'Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige, la Lombardia e la Toscana. Per contro, a snobbare l'incentivo sono state le regioni del mezzogiorno. Molise, Puglia, Calabria e Sicilia si attestano sotto il 3%. Per la CGA, con 123 miliardi, si sarebbero potuti costruire 1,2 milioni di alloggi pubblici nuovi, 400 mila in più di quanti sono presenti nel paese. Nasce a Genova il laboratorio ISG Liguria di Intesa San Paolo, in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, Camera di Commercio di Genova, Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, SRM Centro Studi e Ricerche. Il taglio del nastro è avvenuto al Porto Antico, uno dei punti nevralgici della città, sia per visibilità che per storia. Il nuovo laboratorio avrà sede nei locali della Genova Blue District, motore per lo sviluppo della città. Paola Rusconi, responsabile del coordinamento marketing e business development, imprese di Intesa San Paolo. Le finalità del laboratorio sono quella di condividere con le imprese, con le PMI, questo nuovo elemento, ISG. Cos'è? Quali sono le evoluzioni normative? Quali sono le opportunità? E come introdurlo nei propri sistemi aziendali e nel proprio modo di operare tutti i giorni guardando anche la sostenibilità futura. questo viene fatto proprio in un laboratorio, non solo da Intesa San Paolo, che è stato promotore insieme a Intesa San Paolo Innovation Center, ma anche insieme a altre associazioni e entità del territorio. L'obiettivo dell'iniziativa è supportare le imprese nei processi di transizione ambientale, sociale, digitale e di governance, in linea con le missioni del PNRR. Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa San Paolo. Il laboratorio ISG della Liguria, quindi ha un connotato che non è solo cittadino, ha la volontà di portare le tematiche ISG direttamente verso le imprese e poter fornire al tessuto imprenditoriale di questa regione un supporto concreto a un momento sostanziale della vita delle imprese che è quella della transizione verso la sostenibilità. La transizione verso la sostenibilità sta diventando un elemento che supera abbondantemente i confini dell'etica e sta andando verso un elemento di posizionamento, quindi pensiamo che le imprese che affronteranno questo processo oggi e nel futuro potranno essere presenti sul mercato con caratteristiche sempre più vincenti. Intesa San Paolo ha già messo a disposizione un plafond di 8 miliardi di euro per la Circular Economy e di 76 miliardi per le imprese che investono nelle fonti rinnovabili. Grazie per la visione!